Siamo in casa DCN Kart Optin, la squadra di Treviso, anzi uno degli abbinamenti che hanno, cioè i codi che è Tardisium, il nome è latino, e siamo con la biondissima Mara. Mara è dalla casacca, ci fa capire che è il capitano. Il capitano di una squadra tutta massimile, però lei è una bella ragazza, e questo ci introduce al fatto che al di là dei differenti sport di squadra, vediamo che il capitano può essere, anzi è diverso dai pilota squadra maschile. Mara, spiegaci come è avvenuto questa, perché non è proprio da ieri e non sei capitata per caso, catapultata dall'avrei vinto. Praticamente faccio parte di questa squadra da almeno due anni, incontrati per caso i ragazzi, incontrati sulla pista, visti i piaciuti, per cui diciamo un insieme perfetto, un colubio perfetto. I ragazzi mi coccolano, quindi nonostante io abbia già un ragazzo che è qua, che corre con me, però tutti in qualche modo mi coccolano, quindi è una situazione ideale. Tu no, perché in mezzo e tu si trova, però? No, io devo portare tutto. Ecco, ecco, quando sei venuto in gara, e poi però tu conoscivi il mondo delle carte prima? Allora, a me è sempre piaciuto il motorport in generale, sia che sia la moto, sia che sia se non le quattro ruote, per cui questo diciamo è il giusto colubio per chi si è avvicinato troppo tardi. Ma come a me sei rimasto due anni, a di là del filo, ti hanno trascinato, ti hanno trasmesso di altri vuoti? Sì, sì, mi hanno trasmesso la passione che hanno in pista, mi hanno trasmessa, ma è che lì ho sempre guardato il tempo, per cui alla fine è nato così. Evidentemente un capitano migliore, non lo ho fatto. Probabilmente sì. Bene, grazie, amara, e bocca al lupo per arrivare a tutta la gara, ciao. Bebi lupo. Salve.